spesso ci troviamo in giro assaggiamo piatti assaggiamo ingredienti siamo al ristorante siamo ai mercati quando troviamo qualcosa che ci piace in particolare andiamo a cercare quel fornitore o quel produttore così abbiamo trovato per esempio il signor borello assaggiando il suo prosciutto in un ristorante siamo subito andati a trovarlo anche per scoprire questa realtà del suino nero dei nebrodi che è molto particolare perché trent'anni fa non c'erano più gli allevamenti di suino nero borello è stato uno dei primi a riprendere gli allevamenti di questi animali di borello se ne parla qui da noi da trent'anni il meglio almeno per quanto ci riguarda di salumi prosciutti è il meglio che si può trovare per noi qui in sicilia borello è famoso perché il maialino di nebro di prima lo trovavano soli cacciatori non si trovava in giro lui è stato bravo ha capito la bontà di questo maiale ha creato questo allevamento allo stato brado per farle nutrire queste maialini dei cibi della terra quindi hanno disposizione ettari centinaia di ettari di bosco dove si nutrono di quello che trovano quindi è un prodotto completamente naturale hanno anche delle caratteristiche questi suini neri salutari perché i loro grassi non sono alterati e contengono colesterolo buono lui ci porta lo strutto del maialino di nebri lo usiamo solo quello per fare le cialde dei nostri cannoli solo rigorosamente fatto con lo strutto di borrello del maialino di nebri e usiamo la carne che ha un sapore più intenso più profondo se vogliamo di altri tipi di carne di maiale e serviamo il prosciutto crudo il prosciutto cotto la mia ricetta preferita è la salsiccia all'arancia perché è una cosa proprio nostra della casa è una ricetta semplicissima che solo arancia e marsala perciò quel dolce che si aggiunge a quell'aspro e crea crea una ricetta magica di sapori di odori io l'adoro ecco borrello investe sulla qualità e non sulla quantità proprio come abbiamo fatto qua qua potevamo avere tante stanze abbiamo scelto di puntare sulla qualità e offrire il massimo di comodità e di lusso ai nostri ospiti